Alguero TC Express Maria Gina Carta o come ti chiamano tutti ormai nel centro Gina, oggi festa al Cradi Alguero. Sì, oggi i ragazzi hanno organizzato la festa del gelato, sarà una festa che inizierà alle 7, quindi alle 19 tra poco, dove verrà dato ai ragazzi, agli utenti, ai nostri ospiti il gelato insieme naturalmente all'attività di animazione di cui vi ho già parlato prima. Sei la ROA di questo centro, cosa vuol dire essere ROA? Io sono la responsabile d'area per la regione Sardegna per la cooperativa Seriana 2000, quindi mi occupo di tutti gli appalti della Sardegna. Non abbiamo solamente il Cradi Alguero, ma abbiamo i servizi domiciliari a Sassari, abbiamo l'ausiliariato a Sassari, le automediche del servizio del 118, con tutte le postazioni Porto Torre, Sozzieri, Sassari ed Alguero. Abbiamo adesso in procinto di iniziare ulteriori appalti, perché poi abbiamo anche un'altra struttura per anziani a Palau e fra poco inizieremo anche un progetto su Maccomer per una struttura madre-bambino e altri due appalti di ausiliariato sia su Sassari che su Siria ed Alguero. Seriana 2000, siete la nuova società che è entrata qui al CRA. Che situazione avete trovato? Allora, come in ogni cambio di gestione, naturalmente ci sono sempre delle piccole criticità che naturalmente si affrontano mano a mano e si cerca di risolvere al meglio, soprattutto in collaborazione con l'ento locale, che in questo caso è il comune di Alguero con cui stiamo e abbiamo iniziato una buonissima collaborazione. Piano piano le criticità, quelle che vengono fuori o quelle che abbiamo trovato, le stiamo risolvendo e stiamo andando avanti nel continuare la gestione e a portare la nostra di esperienza in maniera tale da dare un nostro modo di lavorare, la nostra qualità di servizio e le nostre idee perché noi come cooperativa lavoriamo soprattutto in collaborazione con tutti gli operatori. Facciamo un lavoro che deve essere improntato soprattutto sul principio di collaborazione e di rispetto con gli operatori in primis perché se gli operatori lavorano sereni e tranquilli, il risultato lo otteniamo poi sugli ospiti. Siamo qui con Sara Mura, Centro Residenziali Anziani. Qual è il tuo ruolo qui? Io sono un'assistente sociale e mi occupo dei servizi sociali e generali per quanto riguarda il coordinamento. Tu sei molto giovane, sicuramente ti capita di essere un po' considerata nipote da tanti ospiti? Spesso e volentieri, però può essere anche un punto a mio favore perché spesso succede anche che riusciamo a avere più ascolto da parte dei nostri ospiti grazie a questo, perché ricordiamo sia io che l'altra coordinatrice, la nostra coordinatrice infermieristica Gavino Ciavacchis, che si occupa appunto di osse infermieri rispetto alla parte sociale di cui mi occupo solo io. Riusciamo appunto a avere un contatto importante con gli ospiti grazie al nostro approccio. Voi avete contatto giornaliero e quotidiano con gli ospiti. Quali sono le problematiche che più spesso vi trovate ad affrontare? Le problematiche sono varie, partono dalla cucina all'abbigliamento, alla volontà dei nostri ospiti di mantenere maggiore contatto nei confronti dei loro parenti, effettuare più attività, più uscite, a volte richiedono anche delle uscite autonome quando talvolta non possiamo accontentarli. Noi cerchiamo appunto di creare delle attività che possano rendere più varie le loro giornate. Una delle prime è questa. Purtroppo in luglio c'è stato da organizzare tanto altro e quindi non abbiamo potuto realizzare tutte le attività che volevamo fare. E questa purtroppo è una delle prime che arriva solo in agosto, ma speriamo che sia la prima di una lunga serie. Di base dovete dare delle regole stando in famiglia. Sì, comunità questo vuol dire assolutamente vivere in famiglia, cercare di ricreare un ambiente familiare all'interno di una struttura che è molto più grande di una casa certamente, però deve ricondurre a quella tipologia, a quello stile di vita. Sì, comunità questo vuol direttamente vivere in famiglia.